Buon pomeriggio, buona domenica, bentrovate, se mi vedete un po' smortina, insomma, registro il video ma non sono al 100% della forma, ma qui bisogna essere sempre operativi. Oggi video dedicato all'album 7 di Vrosceme, l'avete chiesto, quindi io sintetizzerò la promo, le promo essenziali di questo album molto importante, vi lascerò giù in infobox il riferimento al pdf dell'album, in modo tale che voi possiate eventualmente sfogliarlo. Scrivetemi nei commenti oppure sempre nei messaggi in direct, come si usa dire su Instagram, se avete desiderio di acquistare da me, insomma, ci sentiamo privatamente. Comunque vi lascio le informazioni giù in infobox e inizierei proprio nel parlarvi di questo album particolare che inizia dal 26 maggio, ormai passato, arriva fino all'11 di giugno, questo All We Need Is Less per decretare un po' tutta la filosofia di Vrosceme e il protagonista assoluto è questo gel doccia concentrato al mango, sono 100 ml di prodotto che corrispondono a 400 effettivi, ma voi sapete che i 400 sono molto limitanti, soprattutto per chi viaggia in estate, ora che sono ripresi i weekend fuori porta ci sarà la possibilità magari di farsi una vacanzina se si vuole portare il gel doccia in palestra a un peso diverso rispetto al boccione da 400 ml, tutto incentrato sulla filosofia della meno plastica da utilizzare non solo per l'involucro originale che è comunque creato con plastica riciclata a sua volta riciclabile. Ad ogni gel doccia concentrato acquistato viene piantato un albero, questa è una bellissima iniziativa, voi sapete che collaboro anche con Happiness Boutique, azienda che vende bijoux e accessori molto attenta a questo tema green, a piantare un albero ogni volta che si acquista un gioiello, Yves Rocher acquistando un suo doccia gel concentrato pianterà un albero, quindi questo è sicuramente un incentivo per acquistare anche con più leggerezza e con più consapevolezza. La minor plastica, vedete 400 ml l'involucro precedente, ora ridotto a 100 ml, minor quantità dà possibilità all'interno del camion di utilizzare più prodotti e limitare non solo i viaggi ma anche l'emissione in atmosfera degli inquinanti. Vedete la presenza anche dello shampoo concentrato, prima promo interessante, se acquistate due ecodoccia avete non solo la promo di 5 euro invece che 3,95 euro l'uno, ma verranno piantati due alberi, quindi doppio incentivo ad acquistare. Oltre alla profumazione al mango e alla vaniglia, che sono molto appetibili, qui vedete le fragranze presentate, c'è il fiore di tiaré, l'olivo, la lavandina, che si denomina lavandin, che non è lavandino ma è proprio la lavandina, poi c'è il loto che mi piacerebbe provare e la framboise, che è il lampone, mi sarebbe piaciuto tanto anche la fragola, ma vedremo se prendere il lampone o altre. E poi la melagrana, quindi ad ogni goccia corrisponde una doccia, sono 100 ml di prodotto, che equivalgono abbiamo detto alle prime 400 ml, corrispondono a 40 docce. Voi capite l'importanza di flaconi compatti da utilizzare quando si viaggia, insomma, per le varie nostre attività quotidiane, più o meno quotidiane o lavorative. Altra promo interessante, queste maschere viso. Sono nuove maschere viso con questa texture sensoriale, voi potete vedere che sono bellissime anche nel pack, sono costellate da questi fiorellini, ogni fiorellino corrisponde effettivamente all'ingrediente bio che caratterizza la maschera. La promo vi dice 2x7,95, io le prenderò tutte e quattro perché sono comunque maschere interscambiabili, cioè voi potete magari utilizzare questa che è la menta piperita per purificare, quindi da utilizzare nella zona T, insieme magari all'illuminante da distribuire nelle altre zone. Allora, partendo proprio da questa illuminante, questa texture granita esfolia la pelle con delicatezza, risvegliando la luminosità naturale, la grana della pelle è levigata, l'incarnato più luminoso. 5,95 l'una, vedete la combo della menta piperita nella zona T e al livello di illuminazione, la granita gommage nell'altra parte del viso, 5,95 l'una, se ne prendete due avete 7,95. L'altra ovviamente è un balsamo rigenerante alla calendula bio e poi ho la mousse lenitiva con la camomilla bio, pack bellissimo, devo essere sincera, molto molto appetibile. Altra offerta interessante è questo trattamento di bellezza, trattamento intensivo per il viso, prezzo 32,95 e qui lo trova 19,95, texture fondente per questo trattamento super ristrutturante, profumo di rosa e già mi piace, nutre e rigenera intensamente la pelle, levigando le rughe e donando comfort alle pelli più secche ed esigenti. Questa è un'altra referenza che mi piace moltissimo, ve la segnalo per il prezzo competitivo. Mi interesserebbe tantissimo anche questa linea nuova uscita, trattamento liftante anti borse, ne ho sentito parlare da Rossella, logico bio, ciao Ros, più del 97% gli ingredienti di origine naturale, Rossella dice che effettivamente riduce le borse perché è un trattamento liftante anti borse, normalmente è apprezzato 27,95, ora è a 19,95, anche questo è un prodottino che potrebbe interessarmi. Questo fondotinta con SPF 30, pelle perfetta 10 ore, è ad un prezzo speciale ribassato del 40%, da 19,95 a 11,95, vegano, viene riproposta la linea make up al profumo di Monoi, questa linea di illuminante e di terra abbronzante profumata di Monoi. Un'altra promo interessante che vi voglio segnalare, il 40% di riduzione rispetto al prezzo di base, 9,95 ed ora è apprezzato 5,95, sto parlando delle acque corpo e capelli, al cocco, al mango e alla vaniglia, sono queste acque nuvole di freschezza. Vi volevo segnalare anche il Deo, che in questo caso è delicato per pelli sensibili, formulato senza sali di alluminio e garantisce un'efficacia di 24 ore. Io ho preso tutte le due varianti, ma sto particolarmente amando questa al melograno di Spagna, Granada di Spagna, senza parabeni è fantastico, Fiore ne parlava sempre, Fiore vedi mi sono decisa, piano piano arrivo, abbiamo preso sia la variante Alteverde, che è più fresca, altrettanto piacevole, può andare bene anche per i maschi, infatti l'ho data al Capitano, io mi sono tenuta a questa perché è più golosa, è una profumazione rotonda, fruttata, succosa, mi piace tanto, e ho ripreso, visto l'ordine che vi dicevo, ho dovuto rifare per la mia vicina di casa, le due referenze del burro labbra, al cocco, ovviamente alla vaniglia, poi vi farò vedere quando mi arriverà il pacco. Allora, credo che sia la prima volta che va scontato il guanto di Utah, da 9,95 passa a 7,95, questo sicuramente lo prenderò, è un guanto 100% di origine naturale, un guanto espogliante e mi piace tantissimo, io solitamente utilizzo o il guanto di crine o i guantini che si trovano da Primark per frizionare bene la pelle, è sicuramente interessante anche questo gommage vegetale all'albicocca, prezzo speciale, ribassata del 39%, la crema anticellulite, questa la voglio provare da 17,95 a 10,95, e qui è il 40% per quanto riguarda gli ecotubi che contengono il latte corpo, sia l'aloe vera idratante, l'avena nutriente, poi cosa abbiamo? Il latte nutriente intenso al burro di karité e il 2 in 1 latte idratante e rassodante con centella asiatica, ecotubo ovviamente contengono il 25% in meno di plastica. Se riproposta tutta la linea almonoi devo dire che i prezzi sono invariati rispetto all'album precedente, non avrete ovviamente la promo con la pochette in omaggio, ma se siete indecise vi direi di acquistare sicuramente il profumo che mi sta piacendo tantissimo. Molto buono, molto valido anche questa variante di olio nutriente per il corpo, che è un olio secco, non unge, è quello che cambia consistenza solida e liquida col cambio della temperatura. Questo invece è quello arricchito con quelle pagliuzze dorate per esaltare la bronzatura, non è male, ma se non volete spendere quanto sono? 14,95 euro può valutare di acquistare un set di solari e avere in omaggio questo travel kit dove avrete una mini size dell'olio iridescente. Come si fa per avere questo travel set? Bisogna acquistare questi solari, in questo caso è latte spray 150 ml, latte idratante 3 in 1 con SPF 15, qui abbiamo il latte comfort e latte idratante 3 in 1 con SPF 30 e idem SPF 50 con il latte comfort e latte idratante. Acquistando questi set, e anche questo mi sembra, set viso SPF 30, dove trovate un trattamento anti-età e un trattamento sublimatore anti-età dopo sole, avrete in omaggio, addirittura 30 e 50 SPF, non è male, questo bellissimo kit. Avete la mini taglia dello shampoo d'occia almonoi, l'olio idratante iridescente, lo shampoo latte colore, più il gommage ossigenante per i capelli e la crema nutrizione. Questa è la carrellata delle novità essenziali di questo album sette, sicuramente farò il mio ordine e lo vedrete poi nel momento in cui mi verrà recapitato. Fatemi sapere voi se avete già acquistato qualcosa, se siete interessate, noi ci vediamo domani. Ciao! Grazie a tutti!